italiani che è Mogol. L'album è stato registrato a Londra con musicisti inglesi, siamo pronti per ascoltare il pezzo, si intitola Nuova Gente Gianni Bella. Ancora te, o forse io più felice accanto a lei, a lei che già vorrei, cosa dico mai uguale a te. Eppure questo sconforto mi arriva alla gola e credo di non volerti più. Al punto che non mi spiace lasciarti da sola, quasi a invitarti a decidere tu. Ma dove siamo arrivati, amore mio, è possibile che io stia pensando a disfarmi di te. E' vento fresco da lontano, nuova gente intorno a noi. Io fra le braccia di una donna bella, che non ho visto mai, ma a che prezzo questo lo scopriremo poi. Tu che danzi, leggera e innamorata di lui. E' vento freddo che paura, nuova gente intorno a noi. E' vento freddo che paura, nuova gente intorno a noi. Ancora un po' di entusiasmo per fortuna c'è, ma troppo assopito il desiderio. Il mio pensiero è rivolto come sempre a te, ma adesso il mio volto è un po' più serio. Ma dove siamo arrivati, amore mio, è possibile che io stia pensando a disfarmi di te. E' vento fresco da lontano, nuova gente intorno a noi. Io fra le braccia di una donna bella, che non ho visto mai, ma a che prezzo questo lo scopriremo poi. Tu che danzi, leggera e innamorata di lui. E' vento freddo che paura, nuova gente intorno a noi.